I cavalli sono in partenza, partiti, più veloce è in avvio, Hellboy che si porta a condurre ma all'interno reagisce Shafir Kojak che prende la prima posizione, in terza posizione idemsi e staccato in ultima è Santiago della Fonte che ha perso qualche battuta in partenza. Conduce Shafir Kojak abbastanza agevolmente, in seconda posizione Hellboy, indidenzia all'esterno, in quarta per via interna e su del Grimm cerca di colmare il gap Santiago della Fonte che comunque è ancora abbastanza distante. I cavalli entrano in retta d'arrivo con Hellboy che si libera subito di Shafir Kojak che va in vantaggio ma Shafir Kojak comunque reagisce. Ma Hellboy riesce a passare di nuovo e viene attaccato dall'esterno da idemsi che con azione superiore nel finale cerca di provarci ma non ce la fa. Bellissima vittoria del numero 2, 2-3. L'ordine d'arrivo, il favorito non ce la fa. Quindi vince Hellboy, Paolo Aragonì 2-90 nei confronti di idemsi che ha fatto davvero un bel finale. Sono arrivati molto vicini e devo dire che ha corso alla grande anche Santiago della Fonte che...